sono soprattutto gli stereotipi legati ai ruoli di genere che cosa è un uomo che cosa è una donna che cosa significa essere di un certo orientamento sessuale oppure di un altro dell'unico modo per superarli è capire che sono solo informazioni superficiali e molto spesso sbagliate e insistere a conoscere effettivamente le persone per quello che sono sono soprattutto le esperienze delle persone che fanno parte di quelle categorie sociali che soffrono di più degli stereotipi quindi stare a sentire e fare esperienza di persone come dire stereotipate per accoggersi che non sono così e poi leggere le cose che hanno prodotto perché nella storia della nostra cultura ci sono tantissimi testi ma anche film che possiamo leggere e vedere per informarci davvero su cosa significa vivere con addosso uno stereotipo è stato un bellissimo momento di condivisione di conoscenze perché quello che mi interessa è non solo raccontare cose che io so ma vedere se queste cose sono ancora valide per le persone con cui parlo e imparare da loro in che modo mi posso avvicinare di più grazie a voi a presto a presto a presto a presto